Oggi sto andando a pranzo al McDonald's per un solo motivo Le sorprese di Mario Kart nell'Happy Meal Chi ci capiterà? Eccolo! Ti avrò trovato! Pensa quanto ci rimango male se non c'è la sorpresa Eccolo qua Todd! Tra l'altro è uno dei miei preferiti a scegliermelo quando gioco Vediamo un po' se è proprio lui Io è Todd Ci sono anche gli sticker da mettere sulla macchina Finalmente sono tornati i giocattoli decenti al McDonald's Speriamo che sia l'inizio di qualcosa che durerà Ora mi tocca tornare a finire la collezione Bello Sono felicissima Ciao! 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 Grazie a tutti.